Quando le forze dell'ordine o comunque membri delle istituzioni vengono assolti dobbiamo gioire, tutta la cittadinanza deve gioire e soprattutto un corpo così amato dai cittadini e rispettato come quello dell'arma dei carabinieri tira un sospiro di sollievo, quindi bene che sia finito il calvario dei carabinieri ma bene soprattutto per l'arma dei carabinieri che così tiene ancora alta ancora una volta la propria testa.